pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa undicesima domenica gesù ci parla del regno di dio cioè del modo di agire di dio nel cuore di coloro che lo accolgono e per loro mezzo nella storia gesù ne parla nei termini di un semino che una volta seminato cresce nel tempo fino a raggiungere la maturazione e di un granello di senape che da piccino diventa un grande albero nel quale trovano ristoro tanti passerotti questo testo ci offre chiavi meravigliose per vivere una sana spiritualità a livello personale e comunitario e in fondo risponde ad alcune domande dei discepoli di ieri e di oggi ad esempio perché le comunità cristiane sono piccole e magari osteggiate perché personalmente ci sembra di essere fermi allo stesso punto perché il cambiamento è così lento andiamo al testo anzitutto nella prima parabola gesù ci dice che il regno dei cieli è come un seme che un uomo pianta nel terreno dorma ovegli quel seme cresce come neanche lui lo sa come il seme ha una potenza di vita in sé così sono le parole di dio sono vive ed efficaci accolte con fede trasformano la nostra interiorità ad esempio le parole di gesù ascoltate a messa accolte meditando il vangelo del giorno fruite mediante catechesi e testi di spiritualità o la bella testimonianza ricevuta da un fratello o una sorella nella fede hanno una potenzialità di vita in sé e man mano se accolte custodite lavorano la terra del cuore se seguiamo davvero gesù nel tempo avviene in noi una sorta di trasformazione che profondamente ci sfugge ciò che fino a ieri ci attraeva tanto magari persin ci dominava inizia a perdere forza a perdere interesse viceversa iniziano a germogliare noi chicchi di vita di misericordia di pazienza neanche noi ci rendiamo bene conto di come ciò sia possibile siamo noi ma non siamo più noi o quel che pensavamo di essere cresce noi una vita nuova la vita dei figli di dio è chiaro qui gesù non vuol dire che fa tutto lui e noi tiriamo a campare ma ci vuol dire che accolte con fede le sue parole la sua presenza in noi ci cambia inoltre gesù fa notare quasi al rallentatore il processo di crescita del seme stelo spiga chicco pieno nella spiga poi la mietitura ci parla cioè di una crescita graduale che giunge man mano a pienezza e solo allora arriva la mietitura cioè il sogno di dio è che ciascuno giunga a pienezza alla piena maturità in cristo a quella misura adulta della vita e ci si arriva gradualmente non tutto ad un colpo e lo spirito santo il primo protagonista della nostra santificazione è lui che conduce l'anima verso la perfezione e lo fa gradualmente non scavalcando la nostra natura umana ma divinizzandola vedete questo ci offre ristoro da una sorta di ansia da prestazione e da quell'ingannevole tutto e subito nel quale spesso cadiamo quante volte ci scoraggiamo davanti all'ennesima caduta o per il fatto di non riuscire a risolvere fino in fondo le nostre contraddizioni o perché le nostre fragilità persistono e ci inclinano a cedere quante volte ci lasciamo andare al pessimismo vedendo che chi abbiamo accanto fa fatica e magari cade inciampa sempre nelle stesse cose ecco il signore ci incoraggia non si cambia in un colpo solo c'è un cammino da affrontare si cresce passo dopo passo la vita spirituale funziona un po come la vita naturale cresce nel tempo se oggi ho piantato un seme non mi aspetto che domani ci sia già il pomodoro se oggi è nato un bambino domani non lo iscrivo a scuola calcio perché perché deve crescere alcune cose noi cambieranno nel tempo altre dovremo imparare ad accettarle convivendoci il papa simpaticamente disse che dobbiamo riconciliarci con le nostre nevrosi e farce le amiche dato che ci accompagneranno tutta la vita due rischi nella vita spirituale sono il lassismo e rigorismo il lassismo è di chi tira a campare indolente pigro tanto dio è buono è proprio di colui che si rassegna a sguazzare nella mediocrità riducendo la misericordia di dio ad un buonismo sterile e fasullo il rigorista invece pretende la perfezione intransigente con sé e con gli altri sconnesso dalla realtà di sé e dalla realtà della vita delle persone perché perché ognuno di noi ha una storia ai suoi pregi sui limiti i suoi difetti le sue ferite e dunque e dunque c'è un cammino di crescita lassismo e rigorismo sono fallaci entrambi santa teresina diceva che nella vita spirituale bisogna arrivare al giusto equilibrio tra la misericordia verso se stessi l'accogliersi per ciò che si è e il desiderio di crescere di migliorare di lottare contro il peccato non siamo interruttori siamo persone se una persona inizia oggi il cammino di fede non mi aspetto che domani sia già i vertici della preghiera contemplativa e questo vale anche per chi abbiamo accanto se do un consiglio o metto in luce qualcosa o manifesto mio bisogno devo permettere alla parola detta di radicarsi nel cuore di chi l'ha ascoltata e dargli tempo per interiorizzarla prenderne consapevolezza e mettersi in gioco non a caso la chiesa parla della legge di gradualità si accompagnano le persone passo dopo passo partendo da dove si trovano per aiutarle a crescere e giungere a perfezione nella seconda parabola Gesù parla del regno di dio nei termini di un granello di senape che da piccino diventa un grande albero nel quale molti uccellini trovano riparo possiamo cogliere due punti il primo ciò che viene da dio inizia dalle cose piccole pensiamo al suo agire nella storia della salvezza inizia a rivelarsi ad un popolo e attraverso un popolo un popolo piccolo insignificante il popolo di israele dio stesso in gesù si fa piccolo un uomo come noi in una cittadina sperduta della palestina inizia la sua missione radunando attorno a sé uno sparuto gruppo di pescatori esattori dalle tasse uomini e donne senza fissa dimora ai margini della società la chiesa nascente e guardiamo ancora i santi quante volte dio ha scelto gli ultimi per manifestare le sue meraviglie pensiamo ai pastorelli di fatima a san francesco d'assisi e pensiamo anche alla nostra conversione alla nostra vocazione dio non è entrato tutto ad un botto ma in punta di piedi e man mano la sua presenza e noi cresce inoltre ciò che viene da dio diventa grande cioè diventa qualcosa a beneficio degli altri tanti passerotti vi trovano rifugio pensiamo a gesù dio si è fatto piccolo uomo come noi e all'ombra della croce e della sua comunità quante anime trovano rifugio pensiamo alla chiesa i santi non sono nati già santi ma lo sono diventati lasciandosi lavorare il cuore dalla grazia e collaborando con dio giorno dopo giorno pensate ad esempio a san pio da pietrelcina prima che arrivasse a san giovanni rotondo una donna fece un sogno sogno un grande albero dove tanti trovavano rifugio e quest'albero meraviglioso era un certo frappio che da lì a breve sarebbe arrivato o pensate a san massimiliano maria colbe nel bunker della fame ad auschwitz che era fonte di ristoro consolazione incoraggiamento e preghiera per tutti coloro che erano con lui tutti coloro che erano in cammino purtroppo verso la morte perché perché in loro il regno di dio era diventato un albero meraviglioso non delusione dunque se non ci sono risultati immediati se non si smuovono masse né turbamento né impazienze ma attesa fiduciosa sì miei cari non dobbiamo preoccuparci anche come cristiani anche come chiesa della potenza del prestigio della visibilità ma di vivere il vangelo non appariscenti ma significativi una chiesa piena non è necessariamente segno di fede autentica al suo interno direbbe sant'agostino ci potrebbe essere tanta paglia e poco grano oppure presunti luoghi di apparizioni possono anche essere pieni di pellegrini ma non è questo il segno che lì ci sia realmente qualcosa di vero a volte anche noi nelle parrocchie nella mentalità ecclesiale siamo intrisi di questa mondanità basata sui numeri si valutano gli eventi gli incontri gli ordini religiosi dal numero quante persone sono venute tante allora è andato bene quanti siete in tanti allora è un ordine sano papa francesco disse a proposito ma io mi preoccupo quando vedo ad esempio comunità crescere troppo in fretta mi viene da domandarmi e da sperare ma veramente viene da dio veramente è opera sua così anche nelle comunità non si può ragionare con i grandi numeri con gli eventi clamorosi il punto è formare coscienza di fede formare comunità credenti e partire dai piccoli numeri dalle piccole comunità dall'accompagnamento di piccoli gruppi e dall'accompagnamento personale perché possano crescere comunità vere belle autentiche concludo con le parole di joseph fratzinger che a proposito disse nella chiesa esiste la tentazione di cercare subito il grande successo di cercare i grandi numeri ma non è questo il metodo di dio per il regno di dio vale sempre la parabola del grano di senape il regno di dio ricomincia sempre di nuovo sotto questo segno noi o viviamo troppo nella sicurezza del grande albero già esistente o nell'impazienza di avere un albero più grande più vitale dobbiamo invece accettare il mistero che la chiesa è nello stesso tempo grande albero e piccolissimo grano che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti